Guardate, alla stessa distanza, così, io alla stessa distanza, qua gli metto una macchina, una macchina, una macchina qua sopra una casa. Guarda, bellissimo, questo concetto è che il campo elettrico dipende solo dalla carica, è meraviglioso. Perché tu qua c'hai una carica piccola, te frega, qua c'è una macchina con una casa sopra. Allora la domanda è, quanto vale qui il campo elettrico, dovuto a questa carica? 20 N fratto Coulomb, quanto vale qui il campo elettrico, dovuto a questa carica? 20 N fratto Coulomb, cioè non te ne frega niente di quello che sta qua, tu puoi mettere qua pure Maria De Filippi. Capito? Ciao Maria, basta, però è vero, qua puoi mettere chi vuoi, cioè alla fine il campo elettrico là è sempre così, basta.